ciao a tutti in questo video una delle prime vere ferme distingue sul beccaccio cucciolone è pieno di anni cacciando la beccaccia in solitario non sempre riesce a portare il servatico a casa ma le emozioni restano specialmente cacciando con i piccoli pappi buona visione a tutti ciao ragazzi iscrivetevi al canale tutto gratuito ciao a tutti 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 ciao a tutti